buon pomeriggio a tutti oggi è giovedì 15 febbraio sono le 14 07 e torniamo a parlare di petrolio con l'analisi ciclica evoluta ok allora il movimento che ci aspettavamo di salita c'è stato ma hanno esagerato come di consueto in questo periodo come saprete se avete visto tutti gli altri video che faccio cercano di farne di ogni per depistare le persone ovvero qui possiamo serenamente aver avuto 12 barre di inverso quindi settimanale inverso a 11 barre con un raccordo di grado t meno 3 inverso e inizio del secondo settimanale inverso prendiamone a prestito uno da qua e mettiamo due ok per questo che cosa dobbiamo attenderci adesso uno prima controlliamo questi minimi questo 75 54 questo ci 75 52 è per quello che propendo per un raccordo e chi conosce bene l'analisi ciclica voluta lo può comprendere meglio non la conoscete ancora andate sul sito dove ci sono oltre 2900 video di analisi quotidiana e il canale penso più con più video in italia di trading trading non discrezionale quindi che si può imparare e che dà degli spunti veramente per poter guadagnare andate sulla playlist trading days potete fare un corso ancora per un po gratuito fatto da oltre 31.000 persone completato però solo da 7600 in cui potete comprendere che cosa sono i cicli di che cosa stiamo parlando nella realtà di fatti ok altrimenti diventa arabo antico anzi era mai contico in ogni caso quale può essere l'aspettativa in questo momento l'aspettativa è se abbiamo avuto anche lato indice 9 barre su 11 che al massimo può durare un ciclo ti settimanale si chiama ti e qui ti più due perché può essere partito mensile dopo questo mensile che ha lanciato anche un trimestrale quindi siamo al primo trimestrale primo mensile secondo mensile di questo trimestrale e secondo mediamente chiude ok il chiude il il ciclo in ogni caso appunto essendo arrivati a 9 barre qui ci sono dubbi come come tra poco vi farò vedere però mi dovrei aspettare almeno un tentativo di rimbalzo per avere una seconda candela di domani sopra questi livelli almeno sopra questo minimo come minimo assoluto sopra i 75 52 da quel punto in poi che cosa faremo prenderemo questo non c'entra nulla era un vecchio allarme ok metteremo un allarme su questo massimo a 78 77 78 punto 77 ok perché se andremo sopra avremo creato un vincolo rialzista sul secondo settimanale inverso se questa è la centratura corretta con questo che è un raccordo mettiamoci anche magari una r così è più facile ricordarselo togliamo però tutto perché sono ok eccoci qua viceversa qual è l'altra possibilità qual è l'altra possibile centratura anche se preferisco questa l'altra possibile centratura è che da qui sia partito un nuovo ti inverso lo metto sempre per sicurezza che dopo aver fatto 48 barre come da manuale ne fatte oltre 50 sotto questo minimo avendo violato persino uno swing poi adesso si è vincolato completamente a salire ma ma e dopo il ma sapete che ci sono le perplessità strana come forma perché solitamente questa non sarebbe una forma canonica di ciclo è vero che con le cripto abbiamo iniziato anche ad accettare questo genere di cose ma non sono sinceramente convinto di questa centratura per adesso preferisco prediligere il fatto che si sia fatto fino all'undicesimo t-3 inverso qua qui ci sia stato un raccordo inverso perfetto tra un settimanale all'altro qui stia partendo un nuovo settimanale inverso che è già arrivato peraltro a 29 barre su minimo 48 che sono quelli conferma per rimanere qua sotto per far partire qualche cosa di inverso e qui avevamo fatto un minimo di troppo tra virgolette da qui oltre all'allarme che ho già messo per valutare un long se da qui sarà partito effettivamente secondo t-3 inverso con 1 2 3 4 quinta candela sotto questo massimo a parte questo a me interessa sapere cosa sta partendo da qui nuovo t-3 i o anche un settimanale oppure un decimo t-3 i perché qui tempo ne abbiamo ancora due giorni al massimo per continuare a scendere e stiamo perdendo la media mobile in blu a 200 periodi che stiamo provando a recuperare proprio adesso ma si sta facendo fatica ok per cui voglio anche mettere un bell'allarme qui sotto a 75 52 short ok sapendo bene anche che però short tra virgolette fino a un certo punto perché perché potrebbe essere la chiusura non ancora arrivata 44 barre del nostro ottavo t meno 3 non ci sono non c'è tempo non ci sono sui inviolati non c'è nulla che per adesso ci faccia dire nuovo t meno tra io lo metto per sicurezza facciamo anzi facciamo così punto di domanda e poi che cosa faremo e poi aspetteremo perché perché tra poco tra dunque dove è finito tra 15 minuti scarsi arriverà il nostro un sacco di dati e le vendite al dettaglio dei beni essenziali le richieste iniziali di sussidio disoccupazione le vendite al dettaglio e tutta sta sfizia di dati qua stati unitensi per cui sinceramente facciamo una cosa vogliamo ci bene vediamo un attimino se viola questo minimo o va sopra questo massimo successivamente se invece ci sarà la terrenità meglio ok successivamente ragioneremo partenza di nuovo t meno 3 t settimanale con risalita oppure nonno t meno 3 vincolo e discesa e continuazione di discesa perché come sapete possiamo arrivare fino a 11 vista la finta potenzialmente fatta qua con un raccordo suggerisco di fare estremamente attenzione ricordandovi sempre una cosa che siamo a 198 giorni di un'anuale che minimo ne dura 192 che quindi può essere che stia cercando una discesa che abbiamo fatto un primo trimestrale un secondo trimestrale un terzo trimestrale che se dovesse andare a chiudere tutto un'anuale dovrebbe perlomeno tornare sotto questo minimo partito il mensile che è già partito quindi poca salita tanta discesa poca salita tanta discesa eccetera eccetera peraltro qui ci sono dei livelli di supporto interessanti ok quindi contestualizziamo sempre la situazione e ricordiamoci sempre che siamo oltre la durata minima di un annuale completo a 154 giorni è verissimo che possono aver fatto un primo semestrale e che da qui adesso con 44 giorni può essere partito anche un secondo semestrale che può spingere provare a continuare a spingere verso l'alto per adesso non è una spinta particolarmente eccezionale magari i dati ci daranno qualche indicazione più se dovessero fare un eccesso attenzione alle tante finte che si chiamano accordi che possono dare molto fastidio ok vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia lo sarà sicuramente perché non vedo l'ora di mettermi a fare trading su dax e mib che sono in eccesso e però stiamo aspettando che arrivino tra 13 minuti circa le news per vedere cosa fare dopo che sarà passata la maretta se ci sarà stata auguro a tutti una splendida giornata la mia lo sarà sicuramente perché sto facendo quello che amo arrivederci arrivederci